Adesso faremo un tutorial per come si suona Confusione di Moreno Donadoni, il rapper di Amici. Allora, il ritornello, diciamo che è la parte più semplice, quando fa... Allora, si fa il basso a ottave. Gli accordi sono Fa minore e Mi bemolle. Mi bemolle. Ancora. Poi la parte cantata, la parte reppata. Allora, questa qua è più complicata, quindi gli accordi sono sempre Fa minore e Mi bemolle. Però c'è il controtempo. Allora, il basso è sempre a ottave, vero? Ripeto, eh? Vedete? Questo è utilizzabile in molti stili musicali. Pronto. Allora, rivediamo. Allora, rivediamo. Grazie a tutti. Allora, quindi, ricordate che questo passaggio è molto importante, che si usa molto. Ok? Allora, ci vediamo per il prossimo tutorial. Grazie a tutti.